Namaste, ciao! La pratica di questo video è dedicata in particolare alle persone che hanno una predominanza del Dosha Vata. Sono quindi persone che fanno tante cose, saltano da una cosa all'altra, sono sempre in movimento, sono appunto come l'aria e le lettere gli elementi che costituiscono questo Dosha. Sono persone quindi che hanno bisogno di calmarsi e soprattutto di radicarsi, di trovare un centro, la stabilità, perché ovviamente questa è la loro natura, però se non trovano un equilibrio anche con gli altri due Dosha rischiano di aggravare la loro situazione, il loro Dosha principale. Quindi la pratica che faremo oggi è una pratica lenta, quindi per passare da una posizione all'altra con calma, in modo tale da far sì che la mente rimanga con il corpo durante la pratica, una specie di slow flow e cercheremo appunto di focalizzarci sul radicamento. Iniziamo la pratica stando in piedi. Ci portiamo i piedi, separiamo i piedi e la larghezza del bacino, soliviamo le spalle, facciamo ricadere indietro, chiudiamo per qualche istante gli occhi, sentiamo i nostri piedi in terra e ci focalizziamo proprio sul contatto fra piante del nostro piede e il tappetino. Cerchiamo la stabilità e la sicurezza della base. Uniamo le mani di fronte al cuore, apriamo poco per volta gli occhi, portiamo le mani sui fianchi, il piede destro rimane forte in terra. Facciamo la posizione dell'albero, possiamo mettere il piede sinistro sulla caviglia, sul polpaccio oppure portarlo nell'interno coscia, non lo mettiamo sul ginocchio, le mani al cuore. Fisso lo sguardo in un punto per fissare in quel punto anche la mia mente e allo stesso tempo focalizzarmi sul mio piede destro che è rimasto in terra, che vuole essere la mia base forte, una radice stabile, che mi assicura la calma e la tranquillità. afferro la mia caviglia sinistra e poi riporto il piede in terra. La stessa cosa la facciamo dall'altro lato, quindi il piede sinistro rimane a terra. Il piede destro ha diverse opzioni, può essere sulla caviglia, polpaccio o, ancora una volta, nell'interno coscia. Facciamo una leggera pressione con il piede nella gamba in modo tale da evitare che scivoli. Ancora una volta le mani al cuore, la schiena ben dritta, non guardiamo troppo in basso per evitare di incurvare la schiena. Guardiamo davanti a noi e spostiamo questa volta l'attenzione al piede sinistro, forte e stabile in terra. E poco per volta afferro la caviglia e riporto i piedi a terra. Ci voltiamo davanti al nostro tappetino. Inspirando, solleviamo le braccia, guidiamo le mani a terra, ammorbidendo le ginocchia. Poi inspiriamo, stendiamo le gambe, allunghiamo la schiena ed espirando le mani vanno a terra. Il piede sinistro fa un lungo passo indietro. Rimango qui, stendendo la schiena, abbassando il bacino. guardo giù, passo indietro con il piede destro. Sono nella posizione della tavola, metto le ginocchia a terra, mi sdraio del tutto al pavimento. Le spalle ruotano indietro, salgo, poco per volta con il petto, poi la testa. Spingo forte nelle mani, sollevo il bacino, punto le dita dei piedi in terra. Mi sollevo cane a faccia in giù, dove incomincio a camminare sul posto piegando un ginocchio. Poi l'altro. Faccio un grande passo in avanti con il piede sinistro, portandolo fra le mie mani. Abbasso il bacino, stendo la schiena, guardando davanti a me. Poi guardo a terra, passo col piede destro in avanti a raggiungere il sinistro. Ispiro, stendo la schiena, allungandomi bene, stendo le gambe. spiro, mani a terra, testa giù. Il piede destro fa un lungo e lento passo indietro. Abbasso il bacino, guardo davanti a me. Respiro qui. Guardo in terra, passo indietro anche con il piede sinistro. ginocchio giù. Scendo con controllo piegando lentamente i gomiti, portandomi con il petto a terra. Vuoto le spalle indietro, salendo per covra. E poi cane a faccia in giù. Respirando nella posizione. Sento il mio corpo e rimango con le sensazioni del mio corpo. Sento i piedi e spingo i talloni verso terra. Anche se non toccano terra, non importa. Guarda e spingerli verso terra. Voglio portare il piede destro fra le mie mani. Facendo un lungo passo, abbasso il bacino, stendo la schiena, guardando davanti a me. E continuando a respirare. Guardo in terra. Anche il piede sinistro fa un passo in avanti. Incontrando il destro. Allungo la schiena, ispirando. Ed ispirando. Scendo, ammorbidisco le ginocchia, metto le mani nell'incavo dei gomiti. E mi dondolo a destra e a sinistra. mi fermo al centro, mani sotto le ginocchia, stendo le gambe, stendo bene la schiena. E poi le mani vanno a terra. Un passo e poi l'altro per la tavola. Ginocchia giù, mi sdraio del tutto a terra. La fronte rimane a terra. Le mani rimangono in terra. Sollevo, punto e sollevo le gambe. Con piccoli movimenti salgo e scendo. E poi riporto il collo del piede in terra. Ruoto le spalle indietro, i gomiti ben chiusi verso il torso. Collo lungo. Inspiro. Cane faccia in giù. Espiro. Sollevo la gamba destra verso l'alto. Un lungo e lento passo fra le mani. Tutto il piede sinistro in terra. Salgo per guerriero 1. Mani sul bacino per controllare che sia squadrato, rivolto, bene in avanti. Sollevo le braccia verso l'alto, respirando qui. Base stabile, forte. Piedi ben saldi, ben radicati al pavimento, terra. Inspiro. Stendo la gamba destra ed espirando vado a portare le mani lentamente a terra. Allungo la schiena con un'ispirazione ed espirandomi piego in avanti sulla mia gamba destra. Posso mantenere il ginocchio un po' morbido, soprattutto se mi dà fastidio esattamente dietro il ginocchio, se sento tirare troppo la parte dietro la coscia. piego del tutto il ginocchio destro, sollevo nuovamente il tallone sinistro, mani a terra, passo indietro, cane a faccia in giù. Stessa cosa dall'altro lato, sollevo la gamba sinistra verso l'alto e faccio un lungo e lento passo fra le mie mani con il piede sinistro. Il piede destro va a terra per la base del primo guerriero, salgo con il busto, le mani sui fianchi, la gamba destra è ben stesa, il ginocchio non è piegato, tutto il piede tocca a terra. Sollevo le braccia, guerriero uno. Respiro qui, sento le mie gambe soprattutto forti e stabili. inspiro, inizio a stendere la gamba sinistra e molto lentamente senza fretta scendo con le mani a terra. Inspiro, allungo la schiena ed espirando mi porto sulla mia gamba sinistra. piego nuovamente il ginocchio, sollevo il talone destro, mani a terra, faccio nuovamente un passo indietro e mi riporto a cane, faccio in giù, respirando qui. Sollevo i talloni, guardo le mie mani e faccio un passo e poi l'altro riportando i piedi in avanti fra le mie mani. Allungo la schiena ispirando ed espirando, scendo, mi srotolo risalendo, ispirando, mani al cuore. Sollevo la gamba destra, faccio un lungo passo indietro, apro i piedi, apro il piede destro, mantengo chiuso il sinistro, piego il ginocchio destro a 90 gradi, stendo la gamba sinistra per guerriero 2. Anche qui voglio focalizzarmi sulla base, sulle mie gambe. Ho l'intenzione, la sensazione di attirare un piede verso l'altro, sento che i muscoli delle gambe si attivano, i piedi pressano entrambi forti a terra per farmi davvero sentire appunto come un guerriero, quindi forte e stabile nella mia posizione. con un'ispirazione mi inclino indietro ed espirando ritorno a guerriero 2. Le mani vanno sui fianchi, porto i piedi a essere paralleli fra di loro, inspiro lungo la schiena, punto i gomiti indietro ed espirando mi porto in avanti col petto. Il busto però si ferma quando siamo paralleli a terra, i gomiti rimangono puntati verso l'alto. I piedi anche qui ben forti, saldi al pavimento. Ammorbidisco le ginocchia con un'ispirazione, risalgo in piedi e andiamo direttamente ad aprire il piede sinistro. Pighiamo il ginocchio per trovare guerriero 2 da questo lato. Stessa indicazione, attiriamo un piede verso l'altro, sentiamo forti e attive le nostre gambe. ispirando mi inclino indietro ed espirando ritorno a guerriero 2, mani ai fianchi. Ancora una volta i piedi paralleli, ispiro allungo bene la schiena ed espirando mi inclino avanti. Questa volta mettiamo le mani a terra, segniamo la schiena con un'ispirazione ed espirando pieghiamo i gomiti indietro, poco per volta andando verso il basso. ispirando muovo le mani in avanti, stendo la schiena. Guardiamo il nostro piede sinistro che apriamo in fuori, muoviamo le mani verso il piede sinistro, il tallone destro si solleva e faccio un passo indietro per ritornare nella tavola e poi il cane a faccia in giù dove mi fermo, respirando spingendo attivamente con le mani in terra e con i piedi. Metto le ginocchia a terra, mi siedo sui talloni e mi siedo da una parte per stendere le gambe in avanti. Piego il ginocchio destro, stendo la gamba sinistra, apro il ginocchio destro lateralmente. La pianta del piede destro va nell'interno coscia sinistro. Stendo bene la gamba sinistra e punto il piede, punto, pardon, fletto il piede. sollevo le braccia, ispirando ed ispirando inizio a inclinarmi in avanti. Posso anche usare una cintura per arrivare bene al piede, oppure metto le mani ai lati della mia gamba. Respiro qui con calma. con un'ispirazione lentamente risalgo e riporto le mani a terra. Stessa cosa dall'altro lato, quindi stendo la gamba destra, piego la sinistra, poi la apro lateralmente, piede nell'interno coscia, gamba attiva col piede flesso. Inspiro, sollevo le braccia, allungando bene la schiena verso l'alto. La stessa estensione me la porto in avanti, piegandomi in avanti. Anche qui posso mettere le mani a terra sulla mia tibia oppure afferrare bene il piede sinistro e continuo a guardare verso le dita del piede sinistro per mantenere la concentrazione su quello che sto facendo, cosa che appunto per le persone vada solitamente è proprio difficile, perché continuano a pensare, il pensiero continua a saltare da un'idea all'altra. Noi rimaniamo con la nostra mente nella pratica, in quello che stiamo sentendo. Un poco per volta ci solleviamo. Andiamo a stendere entrambe le gambe davanti a noi, le uniamo, portiamo le mani dietro di noi oltre il nostro bacino, puntiamo bene i piedi e solleviamo il bacino e poi riscendiamo nuovamente. Pieghiamo le ginocchia, afferriamo gli alluci con le prime con l'indice e il medio, oppure mettiamo la mano sopra alle dita del piede, come siamo più comodi. Attacchiamo proprio il petto e la pancia alle gambe. Iniziamo poco per volta a stendere le gambe in avanti, ci fermiamo quando le gambe si staccano dal petto. e possiamo rimanere anche molto in alto. Facciamo resistenza con le mani e i piedi, sentiamo la parte lombare, estendersi, stiamo facendo diversi piegamenti in avanti perché proprio l'estensione della parte lombare è una delle parti più sensibili per le persone vata. spesso trattengo delle contratture. Lascio andare lentamente gli alluci, sollevo le braccia, metto le mani a terra, piego le ginocchia e poco per volta andiamo a sdraiarci in shavasana. Stendendo le gambe, stendendo le braccia, chiudiamo gli occhi per qualche istante. spettatore muoviamo mani e piedi pieghiamo le ginocchia ci voltiamo su un lato e torniamo un poco alla volta a sedere incrociamo le nostre gambe nella posizione semplice le mani si uniscono e gli occhi si aprono poco per volta questa era la nostra pratica per le persone vata spero che possa esserti utile appunto per il tuo studio per la tua pratica quotidiana dello yoga se vuoi vedere altri video iscriviti ovviamente al canale e noi ci vediamo alla prossima namaste